22 dicembre 2013, ore 7.30 del mattino, Alleghe, piste da sci, gara FIS. Mi preparo per fare un paio di giri di escaldamento, quindi aggancio gli sci, allaccio gli scarponi, mi sistemo la maschera sugli occhi, impugno i bastoncini e parto. Prima curva, seconda, terza, quarta e alla quinta mi accorgo che lo scarpone interno sta toccando la neve e quindi perdo gli appoggi e sento che sto iniziando a scivolare verso il bordo destro della pista e lì tento di rialzarmi, ma inutilmente perché sotto di me c'è già una ripida scarpata e mentre sono in aria vedo che sto per impattare contro un albero e pensavo a guardare i miei sci con un movimento risposto dalla traiettoria e in un attimo la mia schiena sbatte evidentemente contro questa pianta e lì mi ritrovo a terra. Ogni uomo ha due vite e la seconda inizia quando ci si rende conto di averne solo una. Ma cos'è cambiato da quel 22 dicembre 2013? Beh, da quel giorno sicuramente qualcosa è cambiato, come potete vedere, ma mi riesce difficile raccontare cosa è cambiato dentro di me, perché io non mi sono mai sentito diverso. So solo che fin da subito ho accettato la mia nuova condizione, che per me è stato anche abbastanza facile, dato il mio carattere abbastanza tranquillo e accondiscendente, mentre per i miei genitori e fratelli è molto più difficile. Provate solo ad immaginare di avere un figlio, 17enne o un fratello, che per una stupida caduta da un momento all'altro rimarrà in sedia a rotelle per tutta la vita. Ecco, io però con la mia positività, diciamo che penso di averli perlomeno rassicurati che non era successo niente di brutto alla fine. Certo ricordo perfettamente che non potevo andare a giocare a calcetto con gli amici, per esempio, però sono sempre rimasto lo stesso ragazzo, lo stesso rene di sempre. Andavo in discoteca, andavo al mare con gli amici, andavo alle feste di paese, ho fatto la patente, ho avuto la mia prima macchina e tutto questo grazie soprattutto ai miei genitori, fratelli e amici che non mi hanno mai fatto sentire diverso. Ovviamente i mezzi non erano più quelli di prima, però io ho sempre pensato che fare il meglio che si può, con quello che si ha, fosse la miglior soluzione per superare gli ostacoli. E infatti subito dopo l'incidente il mio primo pensiero era quello di tornare al più presto sugli sci, che è lo sporco che ho sempre amato. Infatti la prima volta che mi sono seduto su un monosci, vi ricordo che ero con mio papà e mi ha accompagnato sulle piste di sci di San Vito, che è il mio paese, e con l'aiuto di un maestro ho fatto le mie prime curve e da lì ho capito subito che potevo governare anche da solo questo nuovo strumento e che poi avrebbe accompagnato la mia vita giorno per giorno fino ad oggi. Ma torniamo un po' indietro, facciamo qualche passo indietro. Quando ero in ospedale a fare riabilitazione, nel tempo libero non avevo un granché da fare, a parte studiare, perché andavo ancora a scuola, e mi sono messo a guardare un sacco di film, che è un mio hobby, una mia passione anche quella. E ce n'è stato uno in particolare che mi ha segnato. È un film che sicuramente conoscerete tutti e c'è una sua frase in particolare che mi ha fatto scattare una scintilla dentro di me. Il film si chiama Rocky Balboa e la frase dice né io né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti non è importante come colpisci, ma è importante come sai resistere i colpi e come incassi. E se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E in questa frase mi ci sono rivisto molto, perché io non me la sono mai presa, non ho mai avuto rancore nei confronti di quello che mi era successo. Ho sempre solo pensato a quello che potevo fare invece che a quello che non potevo fare. Perciò tutti i giorni mi sono allenato e ho lavorato come se nulla fosse. Non mi sono mai fermato ai sé, non mi è mai importato. E lì mi sono riavvicinato alle competizioni sportive, partendo dall'atletica leggera, in questo caso nel lancio del peso del Giavellotto, a cui ho avuto la fortuna nel 2015 di partecipare ai mondiali in Olanda e lì ho vinto anche una medaglia d'or in entrambe le specialità. Ecco però in quei giorni non mi forti di prima la voglia di tornare a fare gare di sci. Poi sempre quell'anno ho conosciuto, ho avuto la grande fortuna di conoscere Lucrezia, che è mia moglie, e col suo amore, con la sua sincerità mi è sempre stata vicino e ha avuto un ruolo fondamentale nella mia crescita professionale e umana. E mi è sempre spronato a dare al meglio di me. Ecco io vi auguro di trovare un'anima gemella come lei, perché veramente è incredibile. Poi tutti i risultati che sono venuti, grazie appunto a tutte queste persone che mi sono state vicino, vengono dalla costante voglia di crescere e di migliorare sempre. Il mio percorso lo può anche un po' dimostrare, perché sono partito dalle prime garette più semplici per ottenere i punti che mi servivano per entrare in nazionale. Dopo essere entrato in nazionale ho fatto le mie prime gare di Coppa del Mondo, tra cui anche i mondiali di Tarvisio nel 2017, dove sono caduto sia in gigante che in speciale. Poi nel 2018 le Paralimpiadi in Corea, dove ho fatto un settimo e un ottavo posto. Nel 2019 quarto ai mondiali in gigante di Cranisca Gora e Sala Nevea. Nel 2020 la mia prima vittoria in Coppa del Mondo e nel 2021 ne sono susseguite altre di vittorie. Ma nel 2022, che è stata la mia miglior stagione, sono riuscito ad ottenere l'oro nella combinata ai mondiali di Lillehammer e un bronzo in Super G. E subito dopo, due mesi dopo, la medaglia d'argento nello slalom gigante e il bronzo nello speciale. Ecco, non volevo essere, diciamo, peccare di superbia, sì, non volevo dirvi queste cose, ma ha uno scopo dirvelo, perché le ultime medaglie che ho ottenuto, quando me le hanno messi al collo, ho capito davvero quanto mi piace questo sport e anche perché lo faccio. Cioè che non lo faccio solo per me, ma lo faccio anche per voi, che mi tifate e che siete qua a darmi la forza per andare avanti e andare sempre più forte. E regalarvi emozioni è la mia più grande motivazione. Poi credo di essere rimasto il normalissimo René, cresciuto a San Vito, che insegue, che si è impegnato per raggiungere i propri traguardi, come fate voi, tutti i giorni con passione. Ecco, io non sono diverso, anzi siamo tutti diversi, però partiamo dallo stesso punto. E poi sta a noi scegliere come affrontare il percorso e con quale atteggiamento. ora mi rivolgo a tutti. Cerchiamo di dare a noi, ma soprattutto ai nostri figli o futuri figli, perché a questa cosa ci tengo tanto perché a me è servita tanto, cerchiamo di dare a noi la possibilità di fare sport, perché lo sport ci sarà sempre nel momento del bisogno e vi salverà la vita come ha fatto con me. Applausi Grazie a tutti.